allora ho controllato qui soltanto una firma qui ah i numeri delle lepre che cosi ci stavano qua dentro scritti si adesso lo ricontrolliamo ma avevano già scritto mi pare che i mail l'avevano messo alla sua ah no io avevo messo l'aveva cambiato vediamo qua la mail l'avevano messo paolo.mona ci piacciono libero è tanto come il cellulare per fremaule invece poi questo qua la vendita questa è la propria giornata il caso in cui non compri chi non c'era vede non compra mai non voglio portare sfortuna no non importa niente basta che qualcuno la rompe la vendita lo facciamo si sta venendo no no non ti preoccupo però ci abbiamo pure la re d'antivisione eh l'ho vista quella è importante quella costa un sacco le zone no no i vicini guardate ultimamente vengono ci stanno questa è un sacco le zone e se ricorda noi andiamo dal modello 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 Grazie a tutti.